signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale settimana scorsa abbiamo parlato della tragica fine di gianni morto in un vicolo solo per fare da gancio narrativo per la quest di un gruppo di personaggi ma siamo sicuri che sia veramente andata così dipende tutto dal sistema che si stava usando in alcuni giochi morire probabilmente la cosa più normale e facile che un personaggio possa fare chiunque abbia mai fatto una quest ad caloftulu o martelli da guerra probabilmente ne è perfettamente cosciente ma questo è un video del d20 system e il d20 system in realtà fa eccezione anzi è una cosa che probabilmente i giocatori all'inizio non notano ma all'interno del d20 system una delle cose più difficili che un personaggio può fare è proprio quella di morire apparentemente la cosa sembra controintuitiva dopo tutto la cosa che piace di meno fare agli avventurieri è proprio quella di morire e mettono in cima alla lista delle proprie priorità quella di uscire vive dalle mirabolanti avventure in cui il master probabilmente li ha cacciati in più ai giocatori non piace perdere il proprio personaggio quindi anche i giocatori stessi oltre alla motivazione dei personaggi hanno una propria motivazione di portare avanti le avventure di quel personaggio per questo motivo nel corso degli anni nel sistema sono state inseriti via via una serie di file safe per evitare che un personaggio finisca la sua avventura prematuramente rovanando magari l'intrattenimento del giocatore che lo controllava in pratica la morte nel d20 system è un acciacco fastidioso che prima o poi ti potrebbe comunque capitare ma fondamentalmente è curabile non è che abbia particolari conseguenze è una cosa che sia il master che i giocatori dovrebbero tenere a mente quando viene organizzata l'avventura e quando viene organizzato il mondo di gioco il video di questa settimana quindi lo dedichiamo a tutti i vari modi per morire per evitare di morire che si possono trovare all'interno del d20 system questo serve sia ai neofiti per farsi un'idea di quello che può succedere su cui magari non avevano ancora abbastanza ragionato sia i giocatori più esperti per vedere morire gianni molteplici volte nel video originale gianni stava venendo accoltellato quando il suo assalitore è stato messo in fuga dal tempestivo arrivo dei pg ora se fosse morto in una quest da 3.5 questo avrebbe potuto essere un problema ma nell'ultima incarnazione del d20 system pathfinder è stato aggiunto un comodo incantesimo respiro di vita che praticamente tutti gli incantatori possono cominciare a lanciare intorno al decimo dodicesimo livello questo incantesimo non solo cura punti ferita con un incantesimo di cura ferite ma riporta in vita una creatura se è morta entro il round precedente consideratelo la versione magica di un defibrillatore ovviamente gianni avrebbe dovuto essere morto da pochi secondi ma se gli avventurieri fossero arrivati più tardi poco male grosso modo allo stesso livello quasi tutti gli incantatori divini guadagnano rianimare morti che fondamentalmente riporta una creatura in vita a patto che sia morta da poche settimane per la modica spesa di 5.000 monete d'oro che possono sembrare tanti ma se considerate che dei banali bracciali della forza più 2 ne costano 4.000 e sono considerati un oggetto standard per gli avventurieri di basso livello capirete che non è una spesa così ingente per un gruppo i decimo dodicesimo livello per poter risorgere una creatura con questi incantesimi però l'incantatore ha bisogno che il corpo sia integro o perlomeno completo di tutte le parti fondamentali che gli servono per vivere l'assassino se avesse anche solo semplicemente portato via il cuore o portato via la testa di gianni avrebbe potuto impedire al chierico di risorgerlo perché sarebbe morto non appena risorto perché gli mancava la testa o gli mancava il cuore questo però sarebbe stato un problema solo per qualche livello perché al quindicesimo il chierico avrebbe guadagnato il vero e proprio incantesimo resurrezione che non solo non richiede che il corpo sia integro in realtà basta un frammento quindi avrebbe potuto riportare in vita gianni da una ciocca dai suoi capelli o anche solo dalle ceneri del suo corpo bruciato ma ha un limite di tempo per essere lanciato di 10 anni per livello e l'incantatore quindi potenzialmente potete risorgere una persona morta entro i 200 anni e non dà neanche malus alla creatura che viene risorta come invece faceva animare i morti tutto questo per la modica cifra di 10.000 monete d'oro bene quindi per uccidere qualcuno non basta farlo fuori non basta farlo fuori e poi portarsi via i suoi organi bisogna proprio far sparire il corpo neanche bruciarlo proprio fare in modo che non venga trovato per i prossimi 200 anni questo già di per sé è un'impresa perché nascondere un cadavere a un gruppo di quindicesimo livello come nascondere qualunque altra cosa a personaggi che possano lanciare incantesimi divinazione del settimo livello è estremamente difficile chi nasconde il corpo avrebbe a sua volta bisogno di essere un incantatore potente in grado di lanciare illusioni e contro divinazioni almeno di settimo livello magari il cadavere sarebbe meglio spostarlo non solo lontano ma magari in un altro piano e per stare sicuri incassare tutto nel piombo in modo a rendere ancora più difficile la divinazione quindi cosa possiamo fare per liberarci di gianni prendiamo il suo cadavere lo incassiamo nel piombo apriamo un portale e lo buttiamo nel piano elementale dell'aria in modo che rimanga intrappato in qualcuno di quei cicloni permanenti che se lo portino in giro all'infinito tenendolo costantemente in movimento e rendendo il tutto ancora più difficile con questo ci siamo finalmente sbarazzati di lui o almeno abbiamo impedito la resurrezione per qualche altro livello perché al diciassettesimo il chierico impara resurrezione pura che si differenzia dal suo precedente meno potente sia per il costo superiore 25 mila monete invece di 10 mila sia per il fatto che non ha bisogno di avere un cadavere per essere lanciato basta che l'incantatore identifichi in maniera univoca quale sia la creatura che vuole risorgere usando nome cognome luogo di nascita devo ricordare per sicurezza di farmi dare da gianni il codice fiscale e anche i dati bancari quindi anche tutta la storia di far sparire il corpo sembra inutile prima o poi in un modo o nell'altro riusciranno a risorgerlo però tutti gli incantesimi che risorgono i morti specificano che per poterlo fare l'anima del defunto deve essere libera e risposta a ritornare ora sempre al nono livello degli incantesimi noi troviamo il simpatico intantesimo legare l'anima che permette di prendere un'anima chiuderla in un gioiello e intrappolarla lì dentro boh facile invece di incassare il cadavere nel piombo e buttarlo nel piano elementare dell'aria facciamo la stessa cosa con la gemma che abbiamo utilizzato per intrappolare l'anima fin tanto che l'anima è lì dentro possono lanciare tutte le resurrezioni che vogliono e falliranno comunque no non proprio perché quando parliamo di incantesimi della nona magnitudine bisogna ricordare che a quel livello arrivano desiderio e miracolo che sono le vere e proprie armi termonucleari dell'arsenale magico incantesimi del genere potrebbero rendere tutta la ricerca della gemma con l'anima triviale o del tutto superflua un incantatore potrebbe semplicemente desiderare che la gemma gli compaia in mano o potrebbe chiedere che per miracolo la divinità liberi l'anima dalla gemma nessuna di queste due opzioni sembra così al di là dei limiti all'incantesimo probabilmente sarebbe semplicemente una decisione che prenda il master ma personalmente non vedo motivi per cui non possano farlo tecnicamente anche trasformare la creatura in un non morto rende impossibile la resurrezione questo perché per motivi in realtà di fluff quando una creatura diventa un non morto avviene un processo chiamato la lacerazione dell'anima e la stessa cosa di cui abbiamo parlato nel video sul perché tutti i non morti sono malvagi un non morto non è una creatura che ha un'anima intera e un abominio contro la vita in quanto tale non avendo un'anima intera non può essere risorto perché risorgeresti solo un pezzo dell'anima ora ovviamente per un gruppo di ventesimo livello distruggere uno scheletro per liberare la sua anima non è un problema ci sono però non morti molto potenti che vengono creati con l'unione di più non morti le meraviglie d'ossa quello del genere quindi magari trasformare il cadavere nella parte di un non morto estremamente potente costringerebbe gli avventurieri a compiere un'impresa veramente eroica distruggendo quel non morto il fatto però è che stiamo continuando a parlare non di metodi per impedire la resurrezione ma solo per ritardarla e renderla incredibilmente macchinosa da parte dei personaggi giocanti cosa che ovviamente è voluto se il master vuole rendere la resurrezione del personaggio più interessante e dagli più peso all'interno della narrazione del gioco che per risorgere il loro compagno i personaggi debbano impegnarsi e compiere un'impresa è perfettamente in linea con la logica che regge le avventure di dnd di pathfinder il fantasy eroico per cui il sistema di 20 è stato pensato il fatto che un personaggio di 20 system sia così difficile da ammazzare sicuramente qualcosa di positivo sia per il giocatore e quel personaggio che in realtà per tutto il resto del tavolo dispiace quando un personaggio che magari ci piaceva e magari piaceva anche agli altri giocatori piaceva il master aveva una sua storia alle spalle che stava venendo emiscerata nel corso della della giocata muore all'improvviso magari neanche per colpa del suo giocatore ma semplicemente per una serie di tiri sfortunati da parte sua e fortunati da parte di qualche mostro che lo ammazza randomicamente in un momento a caso nella quest che non ha nessun particolare valore narrativo è qualcosa di estremamente brutto che potrebbe far perdere la voglia sia al master che ai giocatori magari anche di portare avanti l'intera campagna o comunque toglierebbe qualcosa alla campagna e non è detto che il personaggio che vada a sostituirlo sia altrettanto interessante e che sia possibile per il master interlacciarlo allo stesso modo negli eventi che stanno venendo narrati inserire un nuovo personaggio in corso d'opera è una delle cose più macchinose a giustificare non è impossibile però è comunque una rogna bisogna però fare attenzione che il d20 è un sistema perfettamente simmetrico le regole che valgono per i giocatori valgono lo stesso modo per i personaggi non giocanti per cui gli avventurieri dovrebbero pensarci bene prima di limitarsi a lasciare il boss del dungeon morto nell'ultima stanza e pensare che con questo abbiano finito da questo chiuso la discussione il fatto che un antagonista con abbastanza risorse abbastanza tempo possa fondamentalmente continuare a ritornare dalla morte all'infinito anche centinaia di anni dopo per minacciare anche i discendenti degli stessi personaggi se non i personaggi stessi ritornando alla morte poco dopo potrebbero rendere da una parte del tutto inutili le azioni dei personaggi ma in linea più generale è qualcosa che va considerato molto attentamente anche quando si crea l'immaginario che sta dietro al mondo di gioco proprio a livello di world building è qualcosa che deve essere tenuto in conto come sarebbe un mondo in cui la morte è una malattia curabile magari appannaggio solo dei più ricchi però comunque qualcosa che fa parte della vita di tutti i giorni chiunque potrebbe conoscere qualcuno che è morto poi gli amici hanno fatto una colletta e l'hanno riportato in vita ovviamente questo è un discorso ancora più lungo non lo tratteremo in questo video lo tratteremo più avanti in un video a parte adesso non so dirvi magari anche settimana prossima ma sto ancora organizzando i video comunque non è l'unica cosa questo è uno degli esempi delle cose che funzionano diversamente tra un mondo di gioco e un mondo reale e ne parleremo in un video apposito fino ad allora fatemi sapere voi cosa ne pensate se avete reso la reincarnazione più difficile per impedire appunto queste situazioni paradessali se invece vi sta benissimo così se la permettete ai giocatori e non ai mostri in questo caso perché e soprattutto se avete trovato magari un metodo a cui non ho pensato per liberarsi definitivamente di qualcuno restando all'interno delle restrizioni del D20 system e anche un'altra cosa Gianni mi ha fatto promettere che non avrei fatto nulla di assurdo col suo personaggio per quanto riguarda la resurrezione e ovviamente non posso infrangere quella promessa però non ho detto niente riguardo a voi quindi cosa ne facciamo di Gianni come lo facciamo a ritornare scrivete e vediamo quale sia la cosa più agghiacciante che possiamo fargli succedere nell'attesa delle vostre idee malsane se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video